eccoci con il nostro tutorial per l'orecchino dobbiamo realizzare questo orecchino che vi ho fatto venire nel video precedente allora io lo farò con le perle anche per rendervi più visibili e più facile il lavoro i passaggi, più visibili i passaggi scusate allora prendo un filo di nailo da un metro circa io uso sempre 0,30 ma se usate 0,25 da stessa cosa solo che non vi viene rigido così il lavoro allora mettete una perla o un bicono 4 mm mi raccomando la misura è importante due rocaille per filo proprio in questa sequenza come ho fatto io adesso vi faccio vedere poi di nuovo una perla per filo due rocaille per filo e incrociate in una perla dovete creare questo quadradino qui ora cerco di farveno vedere meglio allora dovete avere una perla centrale due rocaille per filo una rocaia per filo scusate una perla per filo una rocaia per filo e una perla incrociata e vi ritrovate già il primo quadradino dell'orecchino ecco qua mi faccio vedere io penso che si vede bene io penso che ci vede bene io penso che ci vede bene io penso che ci vede bene